Viper, svegliati! Forza, svegliati! C'è una taglia sulla tua testa, Viper. Pensavi davvero di diventare uno tra i migliori Grieffers e non farti dei nemici? Vedo quindi che vi sono mancato allora. Io gestisco il rank dei migliori Grieffers del paese. Se vuoi salire di posizione, devi batterli, altrimenti perderai punti e... la vita! Forse c'è qualcosa che tu puoi ancora fare. Chi cazzo che devi essere quella? La mia babysitter? Non volevo finisse così. È uccidere o essere uccisi, Viper. Non puoi tornare indietro.